Approvata la legge di riordino Meglio giocare nel parco Pet therapy al parco delle valere per aiutare bambini e adolescenti con difficoltà psicologiche Lotta all'antisemitismo presentato il progetto Il passaggio del testimone dalle microstorie alla storia Nuova edizione di Consiglio News Bentrovati via libera dell'Assemblea Legislativa alla legge di riordino Approvati diversi emendamenti di opposizione riguardanti in particolare i temi della caccia e del gioco legale Approvata con 27 voti favorevoli e 12 contrari la legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2022 Il provvedimento nell'ambito dell'attività di razionalizzazione e coordinamento dell'ordinamento regionale interviene per modificare alcune leggi regionali contenenti specifiche discipline di settore al fine di aggiornarle e attualizzarle anche per renderle più coerenti con il riparto delle competenze Stato-Regioni risolvendo talune incertezze interpretative ed attuative nonché alcune possibili situazioni di contenzioso con lo Stato In generale i settori su cui il DDL interviene sono diversi agricoltura e caccia, attività estrattive, edilizia sociale e movimenti migratori foreste, governo del territorio, elettromagnetismo, trasporti, pari opportunità, usi civici, commercio, sanità, impegni istituzionali Cerchiamo di semplificare tutte le norme che possiamo perché questo è il nostro modo di lavorare Una legge di ordine, a mio giudizio, adeguata ai tempi moderni che la maggioranza di centrodestra ha voluto portare avanti nonostante una battaglia abbastanza lunga nel tempo Ci sono risposte ai settori produttivi che noi vogliamo seguire, dare dei molti sì visto che nelle legislature passate hanno ricevuto molti no Tante piccole modifiche di legge, nulla di stravolgente che guardano al Piemonte del futuro Le norme che siamo andati a perfezionare sono molte, sono molto importanti i perfezionamenti erano significativi e quindi fa anche piacere che siano stati votati con una sorta di accordo di tutta l'Aula Approvati diversi emendamenti di opposizione che sono andati a toccare soprattutto i temi della caccia e del gioco legale Sui temi dell'attività venatore e della caccia hanno fatto retromarcia Sui temi legati al gioco d'azzardo anche Rimane purtroppo aperto ancora il tema delle cave che secondo noi è uno scempio ambientale quello che è stato inserito rispetto alla programmazione delle attività estrattive ma non c'è stato modo di interlocuire su questo tema Il centrodestra ha fatto passi indietro sui temi della caccia e del gioco d'azzardo patologico In particolare abbiamo sollevato problematiche sulla tutela della biodiversità e della sicurezza delle persone La caccia su terreno innevato a specie a rischio estinzione come anche la caccia di selezione notturna con gravi rischi per la tutela dell'incolumità pubblica erano temi su cui non potevamo dare il via libero a questo disegno di legge Prendere via alla fine di marzo il progetto di Pet Therapy Meglio giocare nel parco rivolto a bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni Comunicare e giocare con gli animali immersi nel verde di un parco per vivere momenti di svago e di rilassamento riducendo l'ansia e il disagio legati ad una malattia E quanto propone il progetto di Pet Therapy Meglio giocare nel parco presentato al Circolo dei Lettori di Torino L'iniziativa è curata da AMAR Piemonte Onlus Associazione Malati Reumatici del Piemonte in collaborazione con l'ente di gestione delle aree protette del Po piemontese e patrocinata dal Consiglio regionale del Piemonte dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e dal Garante regionale dei diritti degli animali Si tratta di percorsi di assistenza rivolti a bambini e adolescenti in condizione di malattia o disagio che possono interagire con gli animali soprattutto cani e gatti in un armonioso contesto naturalistico qual è il Parco regionale delle Vallere supportati da un'equipa multidisciplinare di esperti Un progetto che mette insieme diverse professionalità e che ha l'ambizione di portare un po' di felicità un po' di normalità ai bambini che soffrono Al momento la Pet Therapy al Parco delle Vallere è proposta per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni del territorio di riferimento dell'ASL Torino 5 e ASL Città di Torino Gli incontri hanno cadenza settimanale Gli interventi assistiti o Pet Therapy sono un servizio che gli operatori specializzati danno in questo caso ai medici pediatri ospedalieri e ai pediatri di libera scelta e i bambini con diverse caratteristiche di disagio di patologie incontrano animali individuati in base alle loro caratteristiche Utilizzare linguaggi nuovi per trasmettere i valori dell'antisemitismo ai più giovani Questo lo scopo del progetto il passaggio del testimone dalle microstorie alla storia sostenuto dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale Tenere viva la memoria per fare in modo che la Shoah non venga mai dimenticata o peggio ancora distorta raccontando la resistenza partigiana e l'orrore delle deportazioni Questo l'obiettivo del progetto della Comunità Ebraica di Torino il passaggio del testimone dalle microstorie alla storia sostenuto dal Comitato Resistenza e Costituzione realizzato in collaborazione con Istoreto il Pitigliani Centro Ebraico Italiano e Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah La scommessa che abbiamo fatto con questo progetto è che passare tramite le storie individuali di famiglie di persone molto vicine a noi molto simili alle nostre storie possa essere una chiave per arrivare più vicini alla sensibilità di chi le legge sia più facile capire l'ingiustizia quanto sono sbagliati i comportamenti quali le persecuzioni l'antisemitismo che ancora purtroppo affiorano nella nostra società odierna Dalle microstorie alla storia la storia è quella dell'orrore della Shoah dei 6 milioni di morti ma noi possiamo comprenderla pienamente andando a esaminare le microstorie quando cioè ci immedesimiamo nella vicenda drammatica di una delle vittime della Shoah Per questa edizione è tutto prima di insalutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci iscriviti al nostro canale